Nonostante tutto, la villa è amata e frequentata. Dispiace però constatare come il luogo, che offre ampi spazi e un panorama da far perdere il fiato, versi nel più totale degrado e abbandono. Stiamo parlando di Villa Giuffa e Paladini, che si estende sotto Viecechevara, Favara, una zona frequentata da adulti, giovani e giovanissimi durante le ore del giorno, dove ci si reca per passeggiare, correre o anche per giocare. Bisogna però fare attenzione a dove si mettono i piedi, tra pavimentazione di velta, cocci e frammenti in vetro sparsi un po' ovunque, tombini senza coperchio che diventano trappole per i passanti più sbadati e che, tra l'altro, contengono al loro interno di tutto e di più, manco fossero cestini per il deposito dei rifiuti, e ancora, tubi in metallo piegati che escono fuori dalla pavimentazione, caditoie che, proprio come tombini, sono diventate vere e proprie trappole, e verde incolto che straborda da ogni dove e che fa capolino dalle crepe del pavimento. All'interno della Villa Giufa, infatti, c'è tanto verde, troppo verde. Le erbacce sono state abbandonate a loro stesse e oggi crescono più rigoiose che mai, a discapito del decoro, ma anche dell'igiene. Questi cespugli sono habitat naturale per animaletti insettivari e l'odore pungente del polline potrebbe rappresentare un serio problema per chi soffre di allergia. Da considerare che ieri ha fatto caldo, e oggi pure, siamo quasi a metà maggio e nella stagione estiva, il calore potrà solo intensificare questi problemi, per non parlare del rischio incendi. All'abbandono della natura si aggiunge però l'inciviltà umana. Diversi lampioni della luce rotti, ad esempio, i campetti adibiti alla pratica di sport e attività ricreative, poi, presentano reti completamente piegate e addirittura file elettrici lasciati in bella mostra, senza più alcuna copertura. Nella parte bassa della Villa, uno scivolo riverso per terra e un pallone bucato, trovati ieri, rappresentavano il perfetto quadro di un posto tanto amato quanto degradato. A nord del vero non è la prima volta che Sicilia TV Notiziario attenziona Villa Giuffa, come non ricordare il giugno del 2016, quando, a pochi giorni dall'insediamento del nuovo sindaco di Favara, la prima cittadina e gli attivisti del Movimento 5 Stelle si erano messe all'opera, in prima persona, per restituire la stessa villa alla dignità che merita. Da allora però si sono susseguite segnalazioni e segnalazioni di cittadini e con queste servizi e servizi di Sicilia TV Notiziario sul luogo nuovamente abbandonato a se stesso. La stessa cosa sta succedendo oggi. La villa comunale, nonostante tutto, è amata da chi la frequenta. Deve essere sistemata non solo per una questione di decoro, ma soprattutto per garantire sicurezza e salubrità del posto. È necessario che dal comune qualcuno si smuove in tal senso. Sarebbe anche opportuno, e lo avevamo auspicato anche in passato, che un luogo pubblico sia costantemente curato, così da evitare un tale stato di abbandono. All'amministrazione comunale, diciamo, tre anni sono già passati. Dato un vero segnale di cambiamento in questa martoriata città, metteteci un custode, metteteci delle telecamere di videosorveglianza, fate quello che volete, ma fate qualcosa. A proposito, che fino a fatto il bando per la concessione e custodia privati delle ville e giardini.